Tommaso De Santis e Giovanna De Giglio Ci raccontano la loro storia, la loro creazione Si parla di colazione a domicilio Questa è stata la loro idea intanto Ciao Giovanna Ciao Emilio, grazie della tua presentazione Tommaso, ciao Ciao Emilio Facendo un riassunto Il nostro progetto nasce da un incontro di esperienze molto diverse Ognuno nel suo campo, Tommaso viene dalla cucina, io vengo dall'arte E il nostro amore ci ha portati a volerlo realizzare insieme E portare comunque qualcosa di utile che non esiste in Italia Che è appunto qualcuno che ti porta una colazione appena fatta, calda a casa Abbiamo un nostro laboratorio dove produciamo tutte le colazioni Che sono dai dolci fino alle uova, fino a insalate Anche per un piccolo brunch, abbiamo un po' di tutto per tutti i gusti Healthy Anche lei Ma avete delle zone, diciamo, di riferimento, specifiche Beh sì, assolutamente Adesso copriamo solo la parte di Roma Centro, Prati, Borgopio, Trastevere, Monti Ma ci allargheremo presto per arrivare a tutti i romani Raccontami in breve questa tua parte da vagabonda Vagabonda, sì Beh, io ho appena laureata Sono andata, ho fatto un viaggio a Underwood con una mia amica solo, proprio vivendo in modo selvaggio Nelle giungle, nelle foreste Per poi spingerci da tutta il Nord America fino al Sud America E abbiamo vissuto per due mesi in una giungla senza nulla, quindi proprio vivendo nella giungla In Guatemala Ecco, se tu non avessi fatto questo, questa idea ti sarebbe venuta in mente? No, perché penso che noi siamo quello che abbiamo vissuto fino ad oggi Quindi quel viaggio, poi mi ha, devo dire, aperto molti canali E poi incontrando Tommaso sono riuscita a fare tutte le idee, a concretizzarla con lui Però è tutto un insieme, anche l'arte sicuramente è connessa C'è arte, amore, commerciali C'è tutto Andrà bene per forza Allora dai, dato che ho capito che siete molto social, facciamo questo riassunto, diciamo così, anche idoneo per Instagram Vi facciamo riepilogare proprio il tutto, quello che realmente siete, come vi chiamate, come vi possono contattare Allora, Lepanier, www.lepaniermiraccomando.it E sui Facebook siamo Lepanier Aspetta, aspetta, www.lepaniermiraccomando.it Ascrive, mi raccomando www.lepanier.it Su Facebook siamo Lepanier Gourmet Breakfast Delivery Ma Lepanier ci trovate A posto così, Giovanna De Giglio, grazie 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 Tommaso De Santis Grazie mille Matrimonio in vista? Ancora no L'anello, mi aveva prima fatto l'anello col calamaro Certo, col calamaro, fritto Vabbè, meglio di niente Grazie, come vedete Mi raccomando, taggate amici Portate in giro Lepanier Porti nasce Portate in giro Lepanier Portate in giro Lepanier Portate in giro Lepanier Portate in giro Lepanier Portate in giro Lepanier